Cari amiche e cari amici, voglio dedicare questo mio video a una mia allieva. L'altro giorno sono andato a casa sua per un incontro di preghiera e lei mi ha detto vieni un po' qua e guarda se ti piace questo quadro. Aveva fatto ingrandire una stampa ed era qualcosa di meraviglioso. Adesso vi mostro la stampa che sarà l'argomento di questo video. Spero di riuscire a mostrarvela. Questo è Enea. In basso c'è il suo figlio e porta sulle spalle il padre e il padre abbraccia questi che sono i penati delle statue sacre. E adesso cerchiamo di analizzare un po' questa stampa. Voglio cominciare da una frase di Evola che scrive Eterno è ciò che sta al di sopra del tempo ed è immutabile. In questo senso noi intendiamo la romanità vera, quella originaria. Non è essa che si è allontanata. Siamo noi che ci siamo ora più ora meno allontanati da essa che può sempre manifestarsi e tornare vivente ovunque viga una decisione interiore e assoluta. Una legge delle affinità elettive è un rapporto di reale corrispondenza. straordinario, straordinario, una partenza proprio meravigliosa. Allora, i romani, gli antichi romani voglio parlarvi di loro e in particolare del concetto di Pietas che sarà lo spunto per fare delle riflessioni sulla romanità e riflettere anche su quanto la romanità non è qualcosa che in realtà appartiene al passato ma come disse Evola, come scrisse Evola può sempre manifestarsi e tornare vivente ovunque viga una decisione interiore assoluta una legge delle affinità elettive un rapporto di reale corrispondenza. I romani innanzitutto cosa indicavano con il vocabolo Pietas? Fondamentalmente tre aspetti della vita del romano che erano l'osservanza delle pratiche religiose poi l'agire del buon cittadino che in primo luogo ama la patria e di conseguenza ama se stesso e gli altri infine indicavano con Pietas il rispetto e l'attuazione dei doveri che ci legano ai genitori, ai parenti, agli amici e qui in maniera estensiva all'umanità intera e adesso vedremo come la Pietas degli antichi romani corrisponda ai nostri valori più profondi di conseguenza può essere riattualizzata da noi questo dipende esclusivamente da noi anzi vi dirò di più che proprio la Pietas può essere per noi oggi proprio il principale degli anticorpi contro il reale virus che si chiama liberismo economico da quanto vi ho detto già si può dedurre che la Pietas non è una virtù individuale ma è qualcosa che coinvolge tutta la società perché propone un ideale di uomo per realizzare questo ideale l'uomo deve sentirsi in armonia l'uomo deve sentirsi inserito in tutta una serie di rapporti e deve avere ben saldi una precisa gerarchia di valori Dio, la patria, i genitori e la famiglia purtroppo non esiste in italiano una parola corrispondente alla Pietas e questo vale per molte parole non solo latine ma anche greche di altre lingue di conseguenza quando si traduce Pietas a seconda del contesto il termine viene riassunto con religiosità altre volte con rispetto altre volte con amore la parola italiana Pietà deriva da Pietas ma in realtà è molto lontana dal significato originario sì, c'è il senso della compassione suscitato in noi ad esempio da entrare in empatia con altre persone che soffrono che soffrono e quindi un atteggiamento misericordioso però la Pietas è un sentimento che è difficile anche da tradurre e da esprimere perché apparteneva a un determinato contesto il suo contesto originario era quello appunto della romanità e quindi della Weltanschauung del modo di percepire la realtà degli antichi romani però, ripeto, ci sono degli aspetti che possono essere riattualizzati al tempo era l'espressione di una civiltà ben precisa quella proprio dell'antica Roma che trovava proprio nella stampa che vi ho mostrato inizialmente e quindi in quelle immagini l'espressione più poetica cioè la fuga di Enea da Troia in fiamme Pius era colui che praticava la Pietas cioè che riusciva a realizzare il concetto di Pietas nel proprio agire e quindi ecco Enea è l'eroe Pio il Pius che si preoccupa a prezzo di gravi pericoli di portare in salvo Anchise il suo vecchio genitore e qui vedremo poi che Anchise rappresenta il mos maiorum la tradizione e dunque aveva, abbiamo visto Anchise sulle spalle il figlioletto Ascanio che si aggrappava al papà e poi la moglie Creusa che si perderà nella confusione e come abbiamo visto Anchise stringeva le statuette dei penati questa è proprio l'immagine della tradizione intesa come tradere Anchise rappresenta proprio la trasmissione degli antenati quindi il mos maiorum letteralmente significa costume dei padri ma è proprio la tradizione che è qualcosa non legata al torcicollo al guardarsi indietro il tradere è un atto rivolto verso il futuro perché significa trasmettere e trasmettere qualcosa non può essere fatto rispetto al passato qualcosa si trasmette rispetto al futuro alle nuove generazioni ecco il figlioletto Ascanio che segue immediatamente il papà Enea ed è colui che riceve la tradizione dicevo che il papà il genitore Anchise che è sulle spalle di Enea abbraccia le statuette dei penati chi sono i penati? ci sono gli spiriti protettori della famiglia della casa e si chiamavano penati minori erano le divinità familiari le divinità del focolare domestico poi c'erano anche i penati dello Stato che erano chiamati i penati pubblici o maggiori e il culto di penati pubblici era connesso poi al culto di Vesta forse in un altro video parlerò esclusivamente di Vesta e delle Vestaliche erano qualcosa di estremamente affascinante comunque tornando al tradere alla Pietas di Enea Enea in questo contesto come abbiamo visto si prende cura del padre come fanno i figli bravi figli i buoni figli i figli riconoscenti quando arriva il momento in cui ai genitori le forze cominciano a venire meno a mancare a causa della vecchiaia e adesso vi leggo alcune delle parole che Enea pronuncia e si rivolge proprio al papà con queste parole coraggio dunque caro padre attaccati al mio collo io ti reggerò sulle spalle con questa fatica non sarà pesante per me dovunque ci conduca il destino unico e comune entrambi sarà il pericolo unica salvezza ve la rileggo coraggio dunque caro padre aggrappati al mio collo io ti reggerò sulle spalle questa fatica non sarà pesante per me dovunque ci conduca il destino unico e comune a entrambi sarà il pericolo e unica la salvezza stupendo Enea quindi è il portatore di una pietas esemplare una pietas che non è solo pietà nel senso con cui lo intendiamo in italiano ma abbraccia tutta una serie di valori quindi è un valore più ampio un valore più vasto che contiene in se stesso il senso del dovere e il senso anche della devozione verso gli dèi ecco i penati il senso della tradizione della patria e l'affetto per i propri figli per i propri amici per i propri genitori e dunque per la propria famiglia e in maniera estensiva per la famiglia umana e poi Enea continua con queste parole Padre mio che siano le tue mani a portare i sacri arredi e i penati protettori della nostra patria a me appena uscito da una battaglia e una strage così feroce non è concesso toccarli finché non mi sarò lavato ad una sorgente d'acqua viva e anche qui è un verso potentissimo perché queste sono le parole che Enea dice a Anchise mentre cerca di portare tutta la famiglia in salvo da Troia che era in fiamma in quel momento e quindi affida proprio al genitore la cura dei penati che erano i protettori di Troia e che lui non può toccare lo dice chiaro e tondo dice non mi è concesso toccarli finché non mi sarò lavato ad una sorgente d'acqua viva perché le mani impure le mani che hanno ucciso non possono avere contatto con le statue sacre dunque Enea ha ucciso si è immacchiato del sangue dei suoi nemici e questo gli dà gloria dal punto di vista dello spirito eroico ma da un altro canto lo rende impuro e indegno di poter toccare con le stesse mani le divinità dicevo che non esiste l'equivalente della Pietas nella società moderna perché oggi è tutto cambiato e quello che è la famiglia naturale questo concetto si è dissolto ma si è dissolto anche a causa della morte di Dio il rapporto dell'uomo con la divinità e lo stesso vale per la patria per questo vi dicevo che la Pietas è un antidoto anche al liberismo e sono gli anticorpi proprio al vero virus che è quello del liberismo economico e perché nel liberismo tutto si è dissolto si è dissolto Dio si è dissolta la patria stanno facendo perdere il senso del confine proprio del confine proprio geografico e la famiglia con le famiglie arcobaleno con le separazioni i divorzi tutto è cambiato così come sono cambiate in se stesse le istituzioni in generale e l'idea stessa del divino era molto diversa per i romani perché per i romani la religione romana è una religione sociale quindi comprendeva tutto un insieme di valori di norme non scritte anche che si tramandavano appunto attraverso la tradizione il mosmaiorum il costume dei padri il tradere e tutto questo costituiva quella che era la loro identità nazionale oggi diremmo e alla base di questa civiltà romana non c'era un testo sacro come era per gli ebrei oppure un testo epico come si utilizzava nell'antica Grecia che erano dei riferimenti i famosi poemi non sono delle lunghe poesie sono dei testi dove ci sono dei modelli di vita c'è una completezza quello che gli orientali chiamano il dharma cioè di come bisogna agire di come bisogna comportarsi di come bisogna entrare in relazione con gli altri e anche con la stessa divinità e quindi l'Iliade l'Odissea questi erano sì testi epici autorevoli ma erano anche si potremmo considerare oggi testi di religione di pedagogia di psicologia ma per i romani non era così i romani per i romani era fondamentale il mosmaiorum una serie di consuetudini di modelli comportamentali che erano incarnati proprio in personaggi esemplari e uno di questi era proprio Enea questi personaggi dovevano essere imitati ed erano proprio l'incarnazione del mosmaiorum l'incarnazione della tradizione intesa appunto come trasmissione come tradere come trasmissione di tutto il patrimonio religioso culturale etico quindi c'era al tempo un'assoluta preminenza dello Stato sul singolo cittadino l'esatto opposto di quella che è la società liberale e liberista che invece ha alle sue basi proprio il singolo quindi questa società atomizzata fatta di tante solitudini invece la società romana ecco perché era possibile una religione civile che oggi non è più riproponibile perché era una religione collettiva e al primo posto non c'era mai la ricerca del proprio interesse personale ma al primo posto veniva sempre la comunità e questo in realtà era un po' in tutte le società tradizionali anche nella società greca nell'antica Atene nell'antica Sparta e nell'ottica del mosmaiorum romano l'eroe si qualificava non perché possedeva qualità individuali straordinarie sì c'era anche questo aspetto quindi l'eroe incarnava la forza il coraggio la fedeltà alla parola data che era una cosa fondamentale ve ne parlerò tra poco ma l'eroe si qualificava oltre che per queste doti eroiche e guerriere perché per il contributo che dava alla difesa dello Stato e quindi al benessere dei cittadini e quindi questo lo rendeva sempre più concatenato e legato agli altri e tutti insieme erano legati al prestigio di Roma all'eternità di Roma per questo era fondamentale la legge il rispetto della legge e il rispetto delle leggi costituiva proprio inizialmente l'unica fonte del diritto e proprio Numa Pompilio per esempio che fu il primo a stabilire delle regole religiose che traevano la propria autoritas proprio da un principio superiore che poi diventerà il mos maiorum la tradizione il tradere e la trasgressione delle norme era proprio grave perché significava al tempo stesso non solo una rottura dell'ordine civile una mancanza di rispetto nei confronti degli altri ma era considerato anche un crimine religioso tant'è vero che si parlava di nefas nefasto in italiano oggi ma nefasto era non lecito cioè una azione che turbava la società e siccome Roma e il limes di Roma e il limite di Roma era lo spazio sacro agli dèi questa azione che si di contravvenire anche a una sola legge era un'azione che non solo andava a scapito degli altri ma disturbava la pax deorum l'equilibrio proprio dell'intera città con gli dèi e di conseguenza il nefas il non lecito questa azione che creava questa frattura con gli dèi poteva essere punita anche con la morte del responsabile in alcuni casi molto gravi l'uomo della tradizione dunque era un uomo virtuoso ecco anche qui riemerge un altro concetto della romanità la virtus virtus vir significava uomo due modi avevano vir e omo omo ominis vir viri vir era l'uomo inteso come eroe e quindi era colui che era vigoroso nel corpo era valoroso in guerra ecco Enea è l'uomo virtuoso oltre che l'uomo pietoso nel senso in cui ho spiegato prima vir era l'uomo fiducioso nelle proprie forze nel destino dello stato romano che era strettamente logato alle sue forze e queste forze gli erano anche date dal legame che aveva con gli dèi e quindi da un venerazione timorosa e rispettosa degli dèi e delle leggi e questo implicava l'essere anche modesto nel parlare e nella condotta e troviamo degli esempi straordinari ad esempio in Seneca al quale ho dedicato un'intera playlist che poi porterò avanti e riprenderò la pietra la pietra è dunque all'insieme di questi valori come abbiamo visto abbraccia una pluralità di significati il dovere la devozione la giustizia l'amore filiale l'affetto la fedeltà e non è molto legato al senso di compassione inteso in senso moderno è compatire quindi essere recettivo con gli altri attraverso la propria emotività e rispetto anche all'accezione di fede in senso moderno la pietra è diverso perché si legava più al concetto di lealtà e la lealtà era strettamente legato alla fedeltà alla parola data e questa è una cosa importante la parola data ancora fino a che non si diffondesse questo devastante liberismo e c'era la cultura contadina io ricordo per esempio che tra i vecchi contadini bastava la parola data e la stretta di mano valeva più di un atto notarile e ancora c'erano questi valori che vigevano e che regolavano proprio i rapporti sociali quindi pensate che la fedeltà alla parola data è la virtù onorata a Roma come una divinità e quindi qualcosa di importantissimo stabilita dal secondo re Numa Pompilio Numa da Numen la potenza attiva degli dèi per quello si chiamava Numa il primo che stabilì le regole religiose a Roma e allora la fedeltà veniva raffigurata come una vecchia dai capelli bianchi pensate che questa vecchia era più vecchia dello stesso Giove Jupiter Iovis Giove che era capo degli dèi perché era più vecchia perché quei capelli bianchi indicavano il rispetto della parola data come fondamento e origine di ogni ordine sociale e politico e questo è qualcosa di fantastico quindi il mosmaiorum il trater il rispetto del costumo dei padri anchise portato sulle spalle da Enea e Ascanio che lo segue aspettando la trasmissione il trater ecco il mosmaiorum divenne spesso l'obiezione anche che molti opponevano a qualsiasi istanza di rinnovamento sociale mentre oggi nella società liberista prendi lo stesso fustino di sapone ci scrivi sopra nuovo qualsiasi altro prodotto ci scrivi sopra nuovo e tutti quanti sono eccitati dal fatto che quella è una novità nell'antichità invece proprio grazie al trater alla trasmissione al mosmaiorum e al rispetto per i valori e i costumi dei padri tutto quello che era nuovo veniva guardato con diffidenza quindi il mosmaiorum divenne per questo l'obiezione che si poteva opporre a chi voleva portare il nuovo a Roma e il mosmaiorum a volte era invocato proprio per difendere la tradizione da tutte quelle che erano idee politiche nuove e che tendevano a in qualche modo a trasformare la tradizione pensiamo ad esempio alla battaglia di Catone il Vecchio contro il cosiddetto circolo degli scipioni che era un circolo oggi lo definiremmo un'avanguardia e proprio la battaglia di Catone contro gli scipioni è proprio un esempio di questo uso politico e culturali della tradizione e da tenere presente che gran parte della storiografia latina è proprio anche se diversa nei toni a volte nella forma però è caratterizzata proprio da questa difesa dei valori tradizionali contro quelle che erano delle spinte e delle pressioni per il cambiamento e voglio chiudere questo video rileggendovi quello che ho scelto come incipit del video di Evola Eterno è ciò che sta al di sopra del tempo ed è immutabile in questo senso noi intendiamo la romanità vera quella originaria non è essa che si è allontanata siamo noi che ci siamo ora più ora meno allontanati da essa che può sempre manifestarsi e tornare vivente dovunque viga una decisione interiore assoluta una legge delle affinità elettive e un rapporto di reale corrispondenza ecco e mi rivolgo soprattutto ai giovani cari giovani siete in tanti a seguire adesso il decimo toro vedete le conseguenze dell'individualismo del ribellismo vedete come condizionano le vostre menti con suggestioni potentissime sin da quando siete piccoli e ancor peggio stanno progettando il vostro futuro e quello dei vostri figli e quindi io vi propongo la tradizione il mos maiorum come valore attuale proprio perché è eterno eterno non vuol dire che un tempo lungo l'eternità è qualcosa che supera il tempo supera lo spazio qualcosa di metastorico e metatemporale cioè che supera la storia e supera il tempo e questa è la nostra vera essenza che è strettamente legato col concetto di Pietas che a sua volta è legata al contesto proprio della romanità come vi ho detto la Pietas è un sentimento che non possiamo resuscitare così come era in origine perché manca il contesto degli antichi romani manca una società fondata tutto sul valore del sacro come era quella romana e che trova questa Pietas è proprio la sua perfetta espressione poetica anche in quella immagine della fuga di Enea da Troia in fiamme però questo non toglie che l'autentica romanità nella sua essenza supera supera la storia supera il tempo e rimbalza fino ai nostri giorni perché perché ce la portiamo dentro è parte di noi fatti non foste a vivere come bruti per perseguire virtute e canoscenza e quella canoscenza non è altro che un aspetto della Pietas e spetta a noi cari giovani farla ritornare vivente attraverso una decisione interiore assoluta che insieme un atto di fedeltà verso noi stessi e verso Dio un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo un atto di fedeltà